L'amministrazione comunale di Capaccio Pestum guidata dal sindaco Franco Alfieri con deliberazione di giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per il Natale 2019. L'intento è di promuovere un calendario di iniziative che unisca ed integri le attività che l'amministrazione sta programmando e le iniziative di valenza artistica, culturale, sociale e di promozione della città che le associazioni del territorio realizzano per le festività natalizie. L'ente pertanto invita queste associazioni a comunicare i loro eventi entro le ore 13 di giovedì 21 novembre al seguente indirizzo email ariaturismo-comune.capaccio.sa.it oppure in forma cartacea compilando un modulo da consegnare presso il municipio.